Manifestazione di protesta dei dipendenti di tre istituti regionali che si occupano di credito agevolato. I lavoratori denunciano tra le altre cose il mancato completamento della fusione di due società in un terzo organismo e l'assenza di un piano industriale. I dettagli nel servizio di Agnese Licata. Enpas, stallo. Tra i sindacati che manifestano di fronte a Palazzo d'Orleana a Palermo, la denuncia principale riguarda la mancata operatività dell'IRCA, l'istituto regionale per il credito agevolato, nato nel 2018 da una legge regionale doveva accorpare IRCAC e CRIAS, gli enti che gestivano separatamente il credito destinato ad artigiani e cooperative. Ad oggi però denunciano con questo sciopero Fabi, CGL, CISL, Will, Unisin e UGL, la fusione non è mai stata completata. Il paradosso principale è che praticamente si è creata una società all'IRCA per accorparne altre due e che invece dal 2018 sono tutte e tre ancora in vita e con ovviamente un aggravio di costi che non serve a nessuno e con complicazioni che si potrebbero risolvere in poche settimane. I sindacati denunciano anche il ritardo nel pagamento degli stipendi ai circa 100 dipendenti e il mancato adeguamento da anni al contratto del settore. Ma questa è la punta dell'iceberg della gestione della cattiva amministrazione di questo Consiglio di Amministrazione che da 15 mesi non riesce a gestire l'ordinario, non riesce a gestire lo straordinario in un momento di fusione. Ad oggi non ha visto luce il piano industriale, non ha visto luce il bando per il nuovo direttore generale. Le conseguenze sono che c'è una situazione totalmente ferma ante la legge di riforma che era stata prevista dal 2018, quindi un iter per l'IRCA che non è quella per gli artigiani, con le vecchie modalità. In tarda mattinata una delegazione sindacale è stata ricevuta dal capo di gabinetto del presidente Schifani e si è svolto un confronto con il CDA di IRCA nel tentativo di capire come andare avanti.